Siamo con Bassesini, presidente del Montagnola. Nel primo tempo il doppio vantaggio, 2-0, 45 minuti, a mio modo di vedere, giocati anche a buon livello. Poi nel secondo tempo c'è stato un po' un caro generale della squadra, comunque nel complesso. È soddisfatto di questo pareggio? Comunque c'è tanto rammarico per i buoni 40 minuti giocati all'inizio. Secondo me il pareggio è il risultato più giusto, anche per quello che abbiamo visto in campo. Noi abbiamo pagato sicuramente la mancanza di una preparazione atletica che è sicuramente in fiori rispetto agli avversari. Lo si allena, noi non ci alleniamo, ma questo non è una scusante, va a vantaggio loro. Paghiamo chiaramente questo cap, soprattutto fisico. L'abbiamo subito nel secondo tempo e penso che loro abbiano raggiunto il pareggio meritatamente. Posso avere un rammarico sul 2-1 perché abbiamo avuto un paio di occasioni per poter fare il 3-1 che lì l'episodio ci avrebbe potuto dare la possibilità di portare a casa la gara. Però, ripeto, sostanzialmente per me è un pari giusto. È una squadra in crescita comunque il Montagnola. Non era partita benissimo, però poi negli ultimi tempi i miglioramenti ci sono stati. Allora, abbiamo fatto una serie di risultati positivi, per fortuna, che ci hanno dato morale e convinzione. Questa partita a Giardinandola l'avremmo sicuramente persa, a mio avviso. Quindi adesso iniziamo col calendario ad affrontare le prime 5 in classifica. Sono tutte prove del 9 per vedere a che punto è la squadra. Quindi un pareggio qua in casa della Lokomotiv è comunque un buon pareggio e dà continuità ai risultati che è quello che cerchiamo.